Il cuore, il grande gruppo, grande intensità, sono molto contento perché siamo riusciti a vincere sul nostro campo. Ieri sera eravamo molto preoccupati, però avevamo la voglia e la volontà e il pensiero di poter fare un'impresa. Oggi io la dedico a tutto il pubblico di Legnano che se lo meritava. Abbiamo iniziato a giocare in casa con una vittoria, questo ci dà morale, e ha fatto vedere che anche giocando senza due giocatori importanti come Frassinetti e Sacchettini siamo riusciti a portare a casa una partita molto importante per tutto il proseguo del campionato e soprattutto per il morale dei ragazzi. Sono veramente molto contento perché ieri sera parlando con Mattia eravamo convinti sia io che lui che stasera avremmo fatto una bella partita e avremmo portato a casa due punti. E eravamo molto fiduciosi.